Signore e signori, a Torino, per tutti noi, il trofeo senza fine! Un applauso! Siamo arrivati all'ultimo giorno, è un sogno che vai a realizzare, è un sogno che già conoscivi bene, avevi già visto Gio. Sì, per me, per me è un giorno incredibile, ho già stato anche in questa città nel giro del 2011, è un grande ricordo per questo giro, ho avuto giorni in cui ho disputato, giorni duri come il di ayer, ma al final è quello che faccio la victoria, solo voglio dire grazie a tutta Italia. Mi ha dato un carino durante queste tre settimane, e per me è Italia occupa un luogo molto importante del mio cuore.